il giornalista Hunter S. Thompson ha fatto un viaggio bestiale nel centro del sogno americano due buste di erba 75 pastiglie di mescalina LSD, svariati grammi di cocaina e un considerevole numero di pastiglie eccitanti, calmanti e esilaranti non che ci servissero tutte per il viaggio non puoi parcheggiare qui non capisco qual è il problema come qual è? Sei sul marciapiede Siete dei creativi meravigliosi non è la città giusta per droghe psichedeliche ne sono sicuro un'altra ora in questa città e ammazzo qualcuno paura e delirio grazie 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 grazie